Nuova tragedia della strada in Puglia è accaduta la notte scorsa sulla Statale 16 all'altezza dello svincolo per Mola di Bari. A perdere la vita un 47enne originario di Valenzano, l'uomo viaggiava in sella alla sua moto quando per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo contro il guardrail. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al giovane centauro sbalzato dalla moto e morto sul colpo. L'incidente si è verificato intorno alla mezzanotte in direzione sud. Sul posto il personale del 118, giunto con due ambulanze, carabinieri e agenti della polizia locale impegnati ad effettuare i rilevi e nella gestione della viabilità. Per consentire l'intervento dei soccorsi e la rimozione del mezzo incidentato dalla careggiata si è resa necessaria la chiusura al traffico di un tratto di statale 16 in direzione sud dove si sono formate delle lunghe code. Le auto sono state temporaneamente deviate sulla complanare per torre a mare fino al termine delle operazioni. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente sulla quale sono in corso o accertamenti da parte delle forze dell'ordine.